Buonasera, buonasera a voi. Allora, quando le cose non mi sono molto chiare preferisco di solito aspettare un attimino per dare la notizia e soprattutto commentarla ed approfondirla. Non mi interessa francamente essere il primo a dare una notizia, non so per quale motivo, siccome credo che mi conosce da tempo sa perfettamente che non vado a caccia di iscrizioni, di visualizzazioni e quant'altro. Poi ovviamente se il canale cresce può solo farmi piacere, ma non è a tutti i corsi che deve essere così e soprattutto non patteggio mai il mio modo di essere e non voglio cambiare il mio approccio e il mio modo di operare. Questa è la storia di Sara Centeleghe, una diciottenne di Costa Volpino in provincia di Bergamo, che è stata uccisa barbaramente, tra l'altro con molte coltellate inferte con una forbice, da un indiano, un certo Bad Han, uno che faceva uso di droga e questo è abbastanza accertato. Ecco, ho iniziato a darvi delle notizie che sono ormai accertate e sulle quali non ci sono dei dubbi. Allora soffermiamoci su questa prima ricostruzione, cioè questo indiano che cercava della droga, cercava della, non so se in questo caso della marijuana, dell'ascice, insomma cercava della droga attraverso anche un'amica di Sara, infatti qui si compone un terzetto, questa amica minorenne di Sara, quindi non ne facciamo nome e cognome, l'indiano Bad Han, che sembra dovessero scambiarsi quella sera della droga. Tra l'altro è stata trovata a casa di Sara Centeleghe, la ragazza che è stata uccisa, della droga, della marijuana, così almeno dicono le cronache, bisogna capire se era la stessa Sara Centeleghe che era la proprietaria di questa sostanza, se era l'amica che siccome era stata a casa di Sara l'aveva messa lì per permettere poi al ragazzo di potersela prendere, insomma tutto questo ancora non è accertato, perché è chiaro che lo scenario cambia totalmente, perché se la stessa Sara faceva uso saltuariamente o meno saltariamente non mi interessa, allora ancora una volta al centro della storia ci devono per forza essere anche i genitori, no? Perché voglio dire, siamo alle solite, inutile poi piangere, voglio dire, come fanno certi genitori, rammaricarsi, scagliarsi contro la società, contro tutto, quando loro che avevano il compito, il dovere di proteggere la propria figlia, il proprio figlio, di guidarli, non l'hanno fatto. Ecco, andiamo prudenti, ripeto, la cosa certa che però ci troviamo di fronte ancora una volta ad un elemento come questo indiano, Badhan, pericoloso, che faceva uso di sostanze e insomma voglio dire uno sbandato che forse era meglio che rimanesse a casa sua in India a fare queste cose, perché è una cosa della quale abbiamo parlato più volte. Quindi, ripeto, rimane una storia molto intricata dai risvolti da chiarire perché altrimenti è difficile, capite, arrivare a delle conclusioni, perché se Sara Centelega non c'entra nulla, era una ragazza assolutamente pulita, che non faceva uso di sostanze di alcun genere, il ragazzo lo conosceva solo perché abitava nel suo palazzo, è una storia, no? Se invece però anche lei faceva uso di sostanze cambia totalmente lo scenario e protagonisti, ahimè, diventano pure i genitori. Ragione per la quale monitoreremo questa storia per capire esattamente come stanno le cose. L'unica cosa certa è che ancora una volta un disgraziato indiano, lo diciamo, l'altro giorno ho scritto un italiano, oggi è un indiano che ha ucciso in maniera crudele con 30 forbiciate una ragazza di 18 anni. Con questo vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.